il primo tempo tra old friends e river plate uno a uno secondo me il risultato è giusto vibrato occasioni da una parte dall'altra parli dalla parte dall'altra parli dalla parte dall'altra è un po di presione sottoporta e un po di equilibrio tattico si può vincere quindi un po più di concentrazione anche concentrazione qui va benissimo accaduto adesso andiamo dal river plate ma gianni 1 a 1 vale seglato tu con una prestazione più concreti sottoporta si si dobbiamo concretizzare meglio sottoporta e spero nel secondo tempo ci lasciamo e vinciamo questa partita va benissimo abbiamo appena terminato l'incontro tra river plate e old friends partita che vede vincitori gli old friends per sette reti a tre siamo qui con il migliore in campo mvp bilancio ottima di di un'ottima prestazione difensiva a volte però ti rimane da solo tu suggerimento anche di sergio stanziale che ha apprezzato la tua la difensura grazie sergio buona la prima si abbiamo fatto una bella partita specialmente nel secondo tempo perché il primo è stato molto equilibrato abbiamo giocato a viso aperto entrambi un po di mancata precisione sottoporta un po di squilibrato nel secondo tempo sono venuti un po meno loro fisicamente e siamo riusciti ad andare in rete con più gol perché sono aperti molto per cercare poi di raggiungerci si adesso questa è la prima di tante partite nel super 8 siete andati in finale in finale è finito e andiamo a fare un buon piazzamento non dico la finale perché è una cosa un po per divertirci anche perché il calcio a 5 è diverso molto 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 diversa ci si corre di più di quella 8 secondo me molto molto più tattivo a 8 mantenere la posizione a 5 invece bisogna ruotare sempre e correre tanto diciamo come inizio non c'è male va bene così migliorare un po l'equilibrio della squadra però va bene come buona la prima in difesa è una mani più di copertura e più cercate di tornare un po più in difesa e di essere un po più preciso sottoporto per il resto però buona la prima perfetto la taglia il migliore in campo anche la dedico la dedico alla squadra soprattutto al nostro capitano storico pallotto nicola chi ci porta sempre in alto come squadra va bene siamo con l'uomo per la prossima partita la polizza è tutto ciao ragazzi ciao